Il NURS Indica Altanissette ha inoltrato una nuova richiesta all'azienda sanitaria provinciale nissena che riguarda la stabilizzazione dei circa 250 dipendenti precari che hanno lavorato in questo periodo di emergenza sanitaria anche in precedenza. Si tratta di personale che ricopre vari ruoli come infermieri o osso e personale sanitario dell'ASPA nissena. Ciò che propone il sindacato delle professioni infermieristiche di Altanissette è di attivare dunque le procedure per quei dipendenti che possiedono i requisiti secondo le nuove normative. Dalla legge di bilancio che è stata approvata il 30 dicembre e è stata effettuata immediatamente esecutiva il 31 dicembre prevede che le aziende possono assumere a tempo indeterminato in coerenza con i fabbisogni del personale del piano triennale. Nei giorni scorsi è stata approvata la dotazione organica dall'ASPA di Altanissette e quindi in previsione di questo anche l'ASPA di Altanissette in un piano di fabbisogni triennale può assumere questo personale. Personale storico a tempo determinato che può essere stabilizzato attraverso la legge di Madia ma anche personale che è stato assunto per l'emergenza Covid che può essere stabilizzato secondo appunto come dicevamo poc'anzi la normativa che prevede che questo personale abbia maturato un minimo di 18 mesi anche in altre aziende 18 mesi di lavoro al 30 giugno 2022. Quindi noi aspettiamo che l'ASPA di Altanissette appunto preveda di attivare subito questo ITER per dare un giusto riconoscimento a coloro che da tanti anni lavorano all'ASPA di Altanissette e anche a coloro che in questi ultimi due anni si sono spesi tantissimo per questa emergenza Covid. Grazie a tutti.